Due decessi e quattro nuovi casi positivi, questo l'ultimo bilancio che arriva dal Vallo di Diano. Nella giornata di domenica sono venuti a mancare una 85enne di Sala Consilina, Colomba Adamo, che già da diversi giorni si trovava ricoverata presso Luigi Curto, e il pensionato Alessandro Mollica, originario di Napoli, ma da alcuni anni residente a Polla, dove era ricoverato per il Covid. C'è invece il sospetto sulla morte di un'ottantenne di Polla, avvenuta in casa. La famiglia ha chiesto gli accertamenti Covid per capire se l'anziano fosse stato contagiato. Al momento comunque sono 14 decessi per coronavirus nel Vallo di Diano dall'inizio dell'emergenza, mentre 127 i contagiati, con gli ultimi quattro casi riscontrati a Caggiano. Si tratta di persone tutte appartenenti alla stessa famiglia, che erano già in quarantena da oltre una settimana. Non mancano però le buone notizie. E' guarito infatti il vice sindaco di Auletta, Antonio Adesso, che dopo il passaggio nell'area no Covid del Curto in questi giorni, tornerà a casa, dove dovrà però osservare altri 14 giorni di isolamento. E' stato inoltre stubato un uomo di Polla che pure si trovava al Curto. Al momento nel locale ospedale sono 10 in totale le persone ricoverate, di cui 2 in terapia intensiva. Il presidio ormai è erodato per il trattamento dei casi Covid ed è stato rinforzato anche dall'arrivo di un infettivologo. Si tratta del dottor Luigi Santoro, in servizio presso i Ruggi di Salerno, che sarà a disposizione della struttura pollese un giorno a settimana e H24 per le eventuali consulenze. L'equip del reparto Covid è stata così completata, essendo già composta dai medici De Angelis, Giannattasio e Trotta. Il lavoro compiuto dal presidio è stato ieri evidenziato e omaggiato dai vigili del fuoco di Sala Consilina, che con le loro sirene e la loro presenza hanno ringraziato dal piazzale esterno gli operatori sanitari. Intanto, sul fronte cilentano, si registra un nuovo caso a Casalvelino. Si tratta di un 28enne rientrato dalla Scuola Carabinieri di Torino. Era già in isolamento nella sua abitazione e non è collegato al precedente caso riscontrato nella cittadina. A Pichotte, invece, il risultato negativo è il tampone fatto su una volontaria della protezione civile. Buone notizie, infine, da Agropoli, dove la paziente numero uno, cioè la docente 57enne, è risultata contagiata dopo essere rientrata da Parma, dove aveva assistito il figlio malato, è guarita dopo circa un mese. Sono risultati infatti negativi i due tamponi successivi a cui è stata sottoposta.